Buongiorno! Alla prossima Ciao 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 Giovanni Ciao Che sport è meraviglio Che sport è meraviglio Giovanni Lorenzo Grazie Ciao 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 Sì, sì. Sento voci di perfetto. Per i fatti ci sono. Non l'ho capito. Perché il livello complessivo è basso. Sì, ma dai, però voglio dire. Per lo ferocio non ha niente più rispetto. Proviamo. Lavora, ma che si può dire che si può passaggiare. Non è tutta bene. La piettiva è la piettiva. C'è la piettiva. Non vedi la prima, non vedi la strada. È appunto. Grazie a tutti. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.